ci siamo ragazzi partiti questa sera siamo partiti prima 17.59 così non potete dire che caspita Daniele ma se è quadrato, se è noioso sempre alle 18, sempre alle 18, sempre alle 18 allora questa è la nostra prova tecnica, vediamo se tutto quanto funziona, se tutto quanto quadra alla perfezione, nel mio caso io controllo la qualità della linea telefonica che per me è sempre importante non essendo dotato di una linea super veloce come si chiama fibra ma devo sfruttare il cellulare, vedo tutti i vostri ok quindi vuol dire che mi state sentendo per cui va molto bene vedo l'importantissimo messaggio di Yolando che scrive forza con i mi piace, grande Yolando hai perfettamente ragione, direi che però possiamo iniziare la diretta quindi mi preparo ad apparire eccomi qua ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina è mercoledì per fortuna è stato un inizio primavera complicato ma oggi è mercoledì possiamo farci finalmente compagnia quindi sono particolarmente contento di questo grazie per essere qui con me siamo in tanti vediamo in quanti siamo al momento 113 ma sicuramente cresceremo sui 200-300 come al solito ed è veramente un grande privilegio allora ringrazio subito super chat super sticker super grazie come si chiama sostegni via banca sostegni via paypal perché per noi sono di fondamentale importanza grazie 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 infinite nonché gli amici abbonati quello è veramente un grande sostegno grazie infinite ragazzi perché siete con noi da tanto tempo grazie 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 non perdetevi anche questa settimana i due video a voi dedicati devo ancora registrarli quindi domani sarà il giorno in cui vedremo che cosa ci racconteremo a livello di abbonati questa settimana ma guardatevi anche i video passati perché ce ne sono più di 300 sul canale quindi c'è da guardare allora cos'altro volevamo dirci mi sembra che ci siamo detti tutti i ringraziamenti li abbiamo fatti allora ci diciamo innanzitutto una precisazione lunedì è uscito un video questo OneDrive Google One Google Drive venerdì è uscito un video con Google One però devo dire che evidentemente non mi sono spiegato bene perché ancora ci sono persone che mi dicono ma che differenza c'è tra Google One e Google Drive caspita mi dico ne ho parlato per mezz'ora in questo video qui forse forse non ho parlato bene condensiamo mezz'ora di video in un istante Google One è solo un nome a un certo punto Google si accorta di avere Google Drive Google Photo Gmail e altri servizi che adesso non mi vengono in mente e ha detto sai cosa facciamo Google One tutti questi servizi si chiamano Google One quindi Google One è l'insieme di Google Drive Google Photo e tutte le altre cose che ci vanno che ci vanno dietro quindi questo è Google One un nome prima c'era Google Drive c'era Google Photo c'era Google quello che è adesso c'è Google One che comprende tutto quindi puoi dire che i tuoi documenti che hai in Google Drive e che le tue foto che hai in Google Photo sono in Google One questo è Google One ragazzi non sincronizziamoli se non siamo esperti se mi state chiedendo ma sono sincronizzato non sono sincronizzato male perché vuol dire che non siamo esperti che non sappiamo bene che cosa stiamo facendo non tocchiamo niente perché se i documenti sono sincronizzati computer con Google Drive Google One o quello che è One Drive quello che è se tocchiamo qualcosa senza essere esperti la garanzia è che perdiamo tutto questo mi viene dalle tante volte che mi scrivete dicendomi ho fatto questo ho fatto l'altro ma ormai è cancellato è cancellato non posso darvi suggerimenti senza vedere di persona perché ognuno può essere organizzato in una maniera diversa quindi ti dico fai così e invece non andava bene dovrei vedere di persona perché è una cosa delicata quello che posso dire è qui ci sono i video dove parlo di One Drive e dove parlo di Google Drive in entrambe queste playlist queste liste di video ho detto non sincronizziamo però poi ho sincronizzato perché continuate a chiedermi di vedere come si fa a sincronizzare quindi poi l'ho fatto nonostante io mi sia consigliato di non farlo l'ho fatto lo stesso e poi ho fatto vedere come venire fuori da questa cosa certo è che se io ho 5 gigabyte di roba in giro di foto mi eccetera avrei un po' di preoccupazione a togliere questa cosa se non so esattamente come muovermi ma per fortuna posso guardarmi tutti i video cercare di capire qual è la mia situazione e cercare di risolvere di risolvere la cosa poi oggi parliamo della cronologia nei browser quindi la settimana scorsa abbiamo visto la cronologia era questo l'intento ma ci siamo persi su un altro discorso mi sono perso su un altro discorso adesso guardiamo la cronologia nei browser e dato che abbiamo fatto un sondaggio e vi ho chiesto ma quale browser utilizziamo oggi utilizzeremo Firefox perché l'ha scelto quasi nessuno no ovviamente scherzo utilizziamo Chrome perché è stato scelto dall'81% dei votanti quanti saranno stati i votanti 116 siamo 175 solo 116 votanti se volete votare al volo così da poter rendere più diciamo veritiero questo sondaggio per vedere se spostiamo un po' le lancette anche se gli altri due Edge e Firefox sono abbastanza lontani ma diamoci qualche secondo bene vedo che qualcuno ha votato per Chrome sempre 122 votanti solo 4 su 185 votiamo 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 così vediamo quale browser utilizziamo ancora dai 3 2 1 restiamo però 135 bravi mi avete ascoltato grazie restiamo con Chrome perché siamo all'83% grazie per gli 80 mi piace 84 mi piace grazie infinite ragazzi allora la cronologia dei browser i browser è il programma che ci permette di navigare in internet lui memorizza un sacco di informazioni queste informazioni memorizzate nel browser ci permettono di trovarle già pronte quando ci servono ricordarci dove siamo stati ma anche altre cose questo è un vantaggio perché vado via più spedito quando navigo in internet ma anche uno svantaggio perché in alcune situazioni mi dà fastidio un po' per la privacy e in alcuni casi e in altri casi invece perché ho sbagliato qualcosa e mi trovo e mi trovo in difficoltà 147 votanti bravi 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 vedo che siamo sempre al 84% per Chrome e quindi la cronologia ogni tanto è necessario cancellarla cioè ci sono delle situazioni in cui mi dico ah no no per questa roba qua devo cancellare la cronologia allora ricordo quello che ci siamo detti nel video passato se prima di navigare in internet mi dicono questa navigazione qui non deve esistere nel senso sono in pausa pranzo in banca lavoro in banca sono in pausa pranzo sono lì che mi mangio il panino ma non so se molti bancari mangiano il panino in pausa pranzo fatecelo sapere nei commenti grazie e non voglio che si veda sui siti in cui vado a navigare ammesso che il tuo computer possa navigare fuori dal mondo banca come fai? attivi la navigazione in incognito tre pallini nuova nuova finestra di navigazione in incognito non lascia traccia su quel computer ma può darsi che poi la banca sappia che hai guardato le Formula 1 hai guardato la MotoGP eccetera mentre eri in pausa pranzo ok? quindi attenzione a questo però almeno non resta roba sul computer che comunque è un computer che usano tutti e dà fastidio navigazione in incognito chiudo con la X perché non voglio usare questo voglio occuparmi della cronologia ti voglio far vedere una cosa perché c'è una una voce particolare che andremo a toccare che secondo me è la più importante perché è quella che di solito ci dà fastidio ed è questa allora se io da qualche parte scrivo qualcosa nel senso che compilo dei campi modulo facciamolo vado sulla posta elettronica webmail webmail domini punto aruba punto it io sapete che mi appoggio come posta elettronica anche su questa su questa piattaforma di Aruba accetto i cookie se mi chiedete il discorso di accetto i cookie li devo accettare non li devo accettare li devo accettare se voglio che il sito funzioni perché è progettato per funzionare con i cookie loro per legge evidentemente sono obbligati a dirmi guarda che questo sito fa determinate cose me lo dicono posso accettare o non accettare se non accetto non funziona non funziona come dovrebbe quindi se mi dico non voglio accettare i cookie di Aruba perché non vengo su Aruba perché semplicemente tanto non funzionerebbe se non mi fido di un sito non ci vado piuttosto che usare i cookie oppure no quindi i cookie per me sì se vado nei siti sì saluto Francesco che è abbonato da 39 mesi grazie infinite Francesco per il tuo lungo sostegno grazie 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 che dice buonasera a tutti tra l'altro allora vediamo che qui c'è scritto dino maggiolino chiocciolacomputerizzati punto it un indirizzo email di fantasia ne metto un altro qui è uscito perché il computer se lo ricorda probabilmente questa cosa qui è nella cronologia perché ci sono stato in passato magari ho scritto ed eccolo qua se adesso scrivo ciro ciro chiocciola associazione maggiolina punto it perché faccio questo premo invio attenzione è necessario inserire la password ok speriamo che questo basti poi mi dico no non era ciro ciro era cira cira perché mi sono sbagliato cira cira chiocciola associazione associazione maggiolina punto it premo invio e adesso mi dice ancora dico accedi dai vediamo se lo memorizza ok cosa succede che questa cosa qui è finita nella cronologia se se ho fatto tutto bene ricarico la pagina così la vediamo quindi io ho un altro giorno torno qui c'è di nuovo dino maggiolino e dato che quella cosa è finita nella cronologia appena io scrivo ciro in questo caso non lo fa facciamolo con dino maggiolino neanche qua non riesco a mostrarlo perché probabilmente devo entrare per mostrarlo quindi non posso farlo comunque ce lo diciamo così anche se purtroppo non riusciamo a vederlo cosa succede che quando nella cronologia sono stati memorizzati queste voci questo è un indirizzo email ma a volte è un indirizzo di casa via palermo 15 e poi magari via palermo 15a tutte le volte che tu scrivi il tuo indirizzo comincia a scrivere via e lui ti mette palermo 15 ma no è sbagliato perché palermo 15a e tutte le volte devi correggere ma non si potrebbe averlo giusto e basta si si cancella la cronologia così si puliscono tutti i campi di riempimento e poi la prossima volta tu puoi avere qualcosa di nuovo cioè puoi scriverlo giusto e averlo giusto questi sono i campi moduli il riempimento dei moduli se andiamo vediamo qui www.paginebianche.it vediamo questo accetto i cookie sempre per lo stesso discorso di prima e qui allora se io scrivo adesso non vorrei scrivere il nome di una persona esistente vabbè scrivo mariorossi mariorossi cerca speriamo che non ci siano mariorosso sì ci sono comunque mariorossi ok pagine bianche torniamo qui adesso vediamo se lo fa no avrei detto qui adesso quando scrivo mario viene già fuori automaticamente mariorossi ma anche in questo momento anche qui in questo momento non riesco a mostrarlo comunque il discorso è che spesso vengono fuori questi indirizzi sbagliati questi nomi sbagliati che io non voglio né che si vedano perché magari ho cercato così non voglio che si vedano ma soprattutto perché il discorso privacy vale poco il mio computer lo accendo con la mia password quindi solo io posso vedere queste cose quindi non mi interessa che si veda il mariorossi che ho cercato il mariorossi perché lo uso solo io il computer quindi non lo cancello per quello la cancello perché magari era mariorossi con una s sola e caspita tutte le volte mi viene fuori mariorossi tutto di fila e io metà delle volte sbaglio cancello la cronologia per azzerare questa memorizzazione e essere a posto quindi adesso vado qui per cancellare la cronologia allora noi abbiamo detto che lo facciamo con chrome ma se dovessi usare edge ma se dovessi usare firefox è più o meno la stessa cosa dobbiamo entrare nell'ordine d'idea che quando facciamo le cose a computer se una cosa è così si fa più o meno nella stessa maniera facciamo un esempio un po' brutto quando andiamo in bagno tiriamo l'acqua ok dicevo che era un esempio un po' brutto se sei a casa tua e vai in bagno e fai tutto quello che devi fare e tiri l'acqua se sei in albergo e fai la stessa cosa cioè devi guardare dov'è il bagno ma quando trovi il bagno dici ok il bagno lo uso so come usarlo come tirare l'acqua c'è il bottone qui l'altro ma ci arriviamo non è che perché caspita non è il bagno di casa nostra e niente poi niente da tutte le altre parti non si tira l'acqua no usiamo la nostra intelligenza per capire che quel bottone lì che prima è qua dall'altro bagno è di lato o è a pedale eccetera quindi ce la facciamo lo stesso discorso dobbiamo applicarlo al computer facciamo una cosa con un browser relativo alla cronologia e beh la cronologia esiste anche per Firefox esiste anche per Edge non solo per Chrome quindi ci mettiamo in moto con le nostre rotelline e dico vabbè allora più o meno sarà sempre così la cosa leggo guardo capisco e agisco dovremmo metterci nell'ordine di idee di usare il computer in questo modo perché cambia continuamente va bene quindi i tre pallini perché ormai i tre pallini sono diventati sinonimo di maggiori opzioni tre pallini o tre righine sempre tre comunque quindi o i pallini o le righine saluto Angelo ciao Angelo e grazie infinite per l'uso della super chat grazie grazie infinite per noi è importantissimo 125 mi piace grazie ragazzi se siamo in tanti se vi scappa ancora un qualche mi piace sempre ben accetto tre pallini perché maggiori opzioni devo cancellare la cronologia vediamo poi mi guardo attorno qui c'è cronologia vabbè qui posso andare sulla cronologia potrei anche premerci sopra potrei anche premerci sopra ci premo sopra e la vedo tutta eccola qua questa è la cronologia e questa è tutta e c'è cancella dati di navigazione devo cancellare la cronologia secondo me è cancella dati di navigazione questo simbolo è un link dice guarda che io ti mando la quindi tutta questa voce in grigio è un link apparentemente non è che se premo qui vado da una parte se premo qui vado da un'altra se premo qui vado da un'altra ancora è sempre quello se volessi essere preciso perché caspita sono pignolo dico ma qui vado in un posto e qui vado in un altro e qui no in basso a sinistra cioè qui mi viene anticipato dove vado a finire quindi se guardo lì c'è quel nome lì se mi sposto a destra e resta uguale se mi sposto a sinistra e resta uguale quindi tutta quell'area lì mi porta nello stesso posto così lo sappiamo per certo grazie infinite Antonella per l'uso del super sticker dove c'è l'omino che fa qualcosa super sticker grazie che dice mi piace grazie bravi avete messo qualche mi piace in più grazie infinite allora premo quindi per andare al cancella dati di navigazione e sono arrivato direttamente qui probabilmente c'è anche un'altra strada per arrivare qui anche quando andiamo al supermercato ci sono strade diverse sono arrivato qui bello e adesso ho da lavorare sulla cronologia quindi da capire come si cancella sono arrivato nella schermata cancella dati di navigazione adesso ci ragioniamo e anche qui tutti quanti i browser più o meno offrono le stesse opzioni la cronologia è quella si usa più o meno nello stesso modo nello stesso modo mi è mancato un po' di fiato allora base cronologia base questa dove tu cancelli queste cose qui o avanzata quando sai un po' più di cose e facciamolo avanzata già siamo qui siamo pronti per l'avanzata allora intervallo di tempo la cronologia può anche essere utile è utile quindi potrei voler cancellare solo l'ultima ma dico caspita nell'ultima ora ho fatto qualche pasticcio quella roba lì la voglio tirare via mi sono dimenticato di mettere la navigazione in incognito eccetera vorrei far pulizia ok qui premo e scelgo ultima ora ultima ora ultimo giorno ultima settimana ultime quattro settimane dall'inizio ma erano due ore caspita nelle ultime due ore pazienza fai fuori l'intero giorno se è importante che spariscano tutte perché non c'è scegli l'orario ok o l'ultima ora o l'ultimo giorno o l'ultima settimana quattro settimane o dall'inizio che vuol dire pulisci tutto in questo caso pulisco tutto benissimo adesso cerco di capire che cosa pulisco quando cancello la cronologia per evitare di cancellare le cose che invece voglio ottenere allora cronologia di navigazione questa è la prima voce perché c'è una rotella da far scorrere cronologia di navigazione 458 elementi e altri sui dispositivi sincronizzati sappiamo che possiamo avere forse questo mi chiedeva qualcuno mi chiedeva per la sincronizzazione prima non mi ricordo il nome e forse era quello che intendevi no lavoriamo solo sulla cronologia oggi quindi se io tengo barrata questa casella i 458 elementi e gli altri sugli altri browser dovrebbero sparire cioè sono le pagine in cui sono andato a navigare le dimentichiamo completamente va bene se le voglio dimenticare tengo la casellina se le voglio tenere non cancello la non cancello la casellina cronologia download 11 elementi qui c'è la memoria di quello che ho scaricato se io cancello la cronologia non è che sparisce quello che ho scaricato caspita ho scaricato tre foto da gmail perché me le ha mandate mio fratello sono le foto delle vacanze di quest'estate belle belle non è che le cancello se cancello la cronologia lui si dimentica di aver cancellato la foto vacanze 2022 eccetera si dimentica di averla scaricata ma la foto è scaricata quindi resta comunque nel mio computer per cui a posto vedo che devo spegnere una luce mi dà fastidio se non lo faccio eccolo qua ok quindi questo solo il ricordo del download quindi via sicuramente cookie e altri dati dei siti nonostante io ti abbia detto questa cosa dei siti tu ti dici ma no io piano quei siti li ho usati ma adesso via 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 voglio pulire tutti i cookie perché cambio un po' di pensieri oppure comunque io voglio tutto pulito ok facciamo fuori i cookie cosa vuol dire vuol dire che tutti i cookie che poi sono dei programmini sono delle informazioni che i vari siti internet hanno registrato nel tuo computer come ti chiami eccetera perché così quando torni lì salta fuori di nuovo si ricordano di te e quindi se tu cancelli i cookie pulisci tutto e sei tranquillo sei a posto non verrai disconnesso dal tuo account google questa è una precisazione importante perché tanti non si ricordano la password quindi cancello i cookie e poi dopo non riesco più entrare nel mio account quindi sai che i cookie li puoi cancellare senza nessun problema direi senza nessun problema fa strano essere assoluti nel mondo informatico perché dopo ah no quella cosa lì quindi li puoi cancellare senza problemi ok magari non togliamo la parola a nessuno così c'è qualche problema e c'era dentro nel discorso immagini e file memorizzati nella cache 319 megabyte cancellare la cronologia per far risparmiare anche un po' di spazio poco ma la fa risparmiare allora cosa succede quando io navigo in internet vado a vedere il sito Maggiolina vado a vedere il sito della Gazzetta dello Sport le foto che ci sono nei siti arrivano sul mio computer per una questione tecnica il computer le immagazzina perché se domani torni sul sito della Gazzetta dello Sport o sul sito di Associazione Maggiolina se ci sono le stesse foto di ieri o se c'è qualche foto di ieri la prende già il tuo computer ce l'ha già non deve scaricarla va prima naviga più velocemente però quella foto lì sta lì se io sul sito della Gazzetta dello Sport non ci vado mai più quella foto lì sta lì nel mio computer occupa un po' di spazio cancellando questa cosa immagini e file memorizzati nella cache libero spazio e quindi si fa queste cose tornano se io torno sul sito della Gazzetta dello Sport o sul sito Maggiolina anche se le avevo cancellate le immagini tornano ci impiega una frazione di secondo in più ma tornano quindi non mi accorgo queste le posso cancellare senza problemi non ho messo il nessuna si possono cancellare tranquillamente queste password e altri dati di accesso qui c'è scritto nulla perché io in questo browser in questa con questo nome account qui non ho memorizzato nessuna password e dati di accesso questa è un'informazione importante se tu hai memorizzato le password e le credenziali di accesso a dei siti il tuo browser se li ricorda quando ci torni non devi scriverle le salui e sei a posto non sarebbe una bella cosa memorizzarle meglio non memorizzare niente perché il browser è un punto vulnerabile se devono fare diciamo capire carpire delle informazioni sanno che nel browser c'è ci sono e quindi si concentrano per andare a prenderle da lì è come se devono prendere dei soldi magari vanno in banca vanno in posta vanno dove ci sono non vanno al cimitero o da qualche altra parte i soldi li trovo lì mi concentro lì d'accordo e quindi meglio non salvarle ma tutti quanti nonostante sappiamo che è meglio non salvarle ne mettiamo alcune anche non importanti non ci sono password non importanti bisognerebbe avere la stessa cura di ogni password anche quella dell'album delle figurine perché poi da lì vedono che password usi passano a provarla da un'altra parte eccetera eccetera è tutta una catena fanno un gradino alla volta e vanno su quindi tutte le password sono importanti ma insomma per alcune vabbè le salviamo quelle se le cancelli e se non le hai scritte da nessuna parte resti a piedi quindi questa è una di quelle voci che calma con consapevolezza la puliamo oppure no in questo caso io non ho niente ma è per far vedere che posso togliere questa voce perché la voglio mantenere attenzione che se io ho scelto l'ultima ora se ne vanno solo le informazioni dell'ultima ora quindi se ho problemi con un account con una password che mi dico caspita l'ho memorizzata ma meglio di no io vengo qua tengo tutto bianco e attivo solo questa per l'ultima ora così quella password se ne va non è più memorizzata nel browser e sono a posto allora dati della compilazione automatica dei moduli eccolo qua 49 suggerimenti sincronizzati questa era la cosa che stavo provando a farvi vedere cioè quando io arrivo in un modulo e quindi sarebbero campi moduli cioè caselline dove devo scrivere delle cose se il computer ha memorizzato delle informazioni sbagliate o che mi dà fastidio che ci siano le cancello cancello la cronologia e finalmente risolvo il mio problema anche questo è uno dei motivi per cui cancello la cronologia a volte vengo qua tengo tutto vuoto tranne i dati della compilazione automatica così mi tolgo quell'indirizzo internet che ho scritto o l'indirizzo email che ho scritto male quella volta e adesso mi salta fuori tutte le volte che non lo sopporto più quindi questo lo cancello tanto se sono dati che ho scritto io che non sono le password e i dati di accesso questi sono male indirizzo male codice fiscale male indirizzo email forse eccetera quello lo posso cancellare perché me lo ricordo quindi sarò in grado di scriverlo nuovamente un'altra volta quindi questa è una cosa che si fa facciamo attenzione perché se ne vanno tutti a meno che non abbia scelto l'ultima ora eccetera eccetera però questo è uno dei motivi per cui si vuota la cronologia allora poi questo impostazioni sito ogni sito ha delle impostazioni di utilizzo questo sito può usare la webcam si no forse questo sito si no oppure chiedimi quindi non forse può usarla non può usarla oppure chiedimi se prova a usarla mi dici guarda il sito vorrebbe usare la webcam può oppure no quindi tu puoi andare a dire quando ti viene chiesto che so quando uso google meet che serve per fare conferenze e la prima volta che ci vai ti viene chiesto possiamo usare la telecamera possiamo usare il microfono sì perché devo parlare devo farmi vedere quindi sì quella cosa viene memorizzata nella cronologia per il sito in questione e quindi lui se lo ricorda se pulisco la cronologia tutti i permessi vengono azzerati all'impostazione standard e quando vorrò usare google meet la prossima volta mi dirà possiamo usare il video possiamo usare il microfono e tu rispondi di nuovo quindi anche questo lo puoi pulire puoi ritornare da capo e sei a posto così allora questo invece dati in app hosting sta a significare app in ospiti app ospiti sul tuo sul tuo browser quindi potrebbero essere estensioni eccetera però non so bene di cosa si tratti devo ammettere che nonostante io abbia cercato eccetera non ho trovato una definizione giusta per questa cosa qui e quindi potrei scegliere dico ma non so cos'è allora non la cancello il ragionamento Daniele mi dice sempre caspita se non sai cos'è una cosa e non la cancelli perché poi non c'è più e magari ti serviva oppure posso essere più ma sì e cancellarla lo stesso quindi questa volta sto così e poi basta dico cancella dati cancello i dati e la cronologia se ne va e siamo a posto pulito cancellata la cronologia chiudo e siamo di nuovo a posto cronologia vuota 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 riproviamo questa la chiudiamo riproviamo vabbè questo lo teniamo qua così tre pallini cronologia cronologia pulita perché l'abbiamo appena pulita siamo a posto quindi se torno qui a dire cancella dati di navigazione c'è ancora il tutto però non c'è dentro praticamente niente sei siti cookie e dati dei siti da sei siti non verrai disconnesso dal tuo account google perché alcuni erano già aperti e quindi eccoli qua di nuovo quindi siamo a posto voglio provare una strada diversa sono da qualche parte dico devo cancellare la cronologia tre pallini impostazioni e poi secondo me è dentro privacy privacy e sicurezza vediamo un po' se è così cancella dati di navigazione premo e arrivo lo stesso alla cronologia quindi una strada diversa per fare la stessa cosa facciamo un viaggio rapido in un altro browser apro firefox che mi piace di più perché edge mi fa sempre vedere le notizie e le notizie non sono mai delle belle notizie quindi io comincio e mi fa vedere un sacco di notizie allora firefox che è molto diverso da chrome e la cronologia qui dove sarà non ci sono i tre pallini siamo in un bagno diverso non ci sono i tre pallini non c'è la manovella ma c'è il pulsante vabbè ma la stessa roba tre pallini cronologia premo e qui c'è addirittura cancella la cronologia recente oppure ripristina vediamo gestisci cronologia qui in basso dietro di me non si vede però posso farvelo vedere così pallini cronologia gestisci cronologia premo e ci arrivo perché c'è scritto gestisci cronologia non perché sia un genio dell'informatica leggo e non ricordo di averlo mai fatto in firefox però gestisci cronologia al suo perché oggi questo mese febbraio gennaio più vecchi di sei mesi vabbè più vecchi di sei mesi eccoli qua e poi posso andare a cancellare cancelliamo cancelliamo come si fa se volessi cancellarla tutta chissà magari c'è un metodo più veloce ce ne sono tanti guarda queste sono tutta la cronologia come posso fare farei controlla è così per vederla la vedo ma se la voglio cancellare vediamo mostra ordina per trova organizza copia elimina vediamo elimina e basta se ne è andata vediamo se torno qui in gennaio ah perché io ho cancellato facciamo così cronologia organizza qui non ci sono tante storie da quello che vedo ma c'era elimina sì elimina febbraio elimina gennaio funziona in una maniera un po' diversa non escludo che ci sia il discorso organizza ma questa quella eccetera perché mi sembra strano che non ci sia però abbiamo visto abbiamo visto qualcosa questo è il download non c'è niente di scaricato etichette non c'è niente e tutti i segnalibri questi invece sono i preferiti anche qui non c'è niente basta sembra che non ci sia altro dentro organizza copia seleziona tutto elimina visualizza mostra colonne etichette eccetera ordina per in teoria abbiamo fatto poi non conosco abbastanza questo browser per sapere se ho ottenuto il risultato nel caso vado e cerco di capire se c'è qualche altro bottone per tirare l'acqua qui o solo quello lì bene questo era il discorso di oggi torniamo sul nostro browser questo chrome eccolo qua e vediamo cosa mi avete chiesto durante questa diretta quindi disegno la riga in chat torno indietro sulla chat allora il sondaggio lo possiamo disattivare termina il sondaggio potevo farlo prima ma ci ho pensato solo adesso allora Yolando dice ancora forza con i mi piace ragazzi e poi c'è un'immagine quindi forza con i mi piace ragazzi perché Yolando lo dice ancora andiamo avanti allora c'è anche Michele che dice coraggio ragazzi aiutiamo Daniele con i pollici in su bravo bravo Michele poi andiamo a cercare la riga delle domande mi fermo qui perché devo tornare più indietro perché secondo me sì allora vediamo parto da Michele che dice se cominci prima l'importante e che siamo avvisati lo scopo del cominci prima era così un po' per scherzare come avete visto all'inizio la diretta è alle 18 e alle 18 però caspita se mi dico alle 18 sembra di guidare un autobus e non puoi passare 5 minuti prima perché se no la gente resta a piedi quindi di solito aspetto sempre alle 18 perché sono un po' troppo quadrato quindi avete visto che stasera 17.59 perché così posso dire che ho superato i miei limiti adesso mi sono evoluto non sono così quadrato questo era il senso delle cose ovviamente dovesse esserci un cambio di orario viene detto ma non è previsto mercoledì alle 18 allora poi Alessandro dice vorrei chiedere come si fa a vedere tutti i vostri tutorial su ClipChamp serve abbonarsi e se sì lo potrei fare durante la diretta allora Alessandro sì al momento i tutorial di ClipChamp sono solo video abbonati e quindi sono solo in abbonati c'è la playlist che trovi su YouTube ma trovi anche nel sito Amici di Maggiolina ricordo che gli amici abbonati hanno anche accesso al sito Amici di Maggiolina ovviamente e c'è la diciamo la playlist di ClipChamp questi sono tutti i video e da un po' che lo facciamo forse ne esce uno anche sabato adesso vediamo ormai ci siamo detti un sacco di cose ma ClipChamp fa un sacco di cose interessanti e c'è ancora qualcosa che manca da vedere e quindi sì potresti farlo anche durante la diretta se vuoi abbonarti ma in un qualsiasi momento comunque ti basta premere sul pulsante abbonati che trovi in giro qui sul canale premi abbonati segui le istruzioni ed è piuttosto semplice e basta poi puoi vedere i video su ClipChamp nonché tutti gli altri 300 e passa video abbonati allora poi Salvatore ciao Daniele ciao Salvatore poi saluto Agostino Fabio Marco Jacqueline ciao Jacqueline poi ci sono tutti tutti gli ok questi li soltiamo grazie ai ragazzi sono molto importanti per noi comunque perché mi serve capire se va tutto bene che ore sono all'orario è giusto nel senso che non sono ancora non siamo ancora arrivati alla fine Salvatore complimenti sei bravissimo grazie complimenti ragazzi potete scriverli perché fanno veramente piacere poi saluto senza occhiali faccio pratica Filomena ciao Cristina Giorgio Guido Vittorino Dani Michele dice coraggio ragazzi abbiamo già visto dei mi piace vedo che sono già tanti grazie Salvatore sei numero uno grazie sembra che mi abbia sentito dire che mi piacciono i complimenti perché l'ha già scritto ancora prima ciao Milena Francesca bellissima la foto sfondo di Maggiolina naturalmente condivisa su Facebook sì questa è la foto dello sfondo Maggiolina di questa settimana questa e la settimana prossima secondo me ci sarà un altro fiore un altro motivo fioreale floreale perché in questo periodo emotivo siamo stati in un posto in un brutto posto dove però c'erano dei bei fiori delle belle cose di notte è venuto particolarmente bene che sicuramente lo vedremo lo vedremo come prossimo sfondo magari se non voglio lo metterò su Instagram anche prima per chi mi segue su Instagram magari va a vederlo e quindi facilmente sarà il prossimo sfondo amici di Maggiolina un altro motivo fioreale sono i fiori del momento ma è venuto particolarmente bene secondo me quella foto va bene poi andiamo a vedere Anna ciao Anna ciao Gian Alberto poi ciao Michele poi Felice ciao Felice ciao Nadia tutti saluti ciao Maria poi Danny Danny Dani di nuovo Daniele ho sentito parlare dello speed per i minorenni è possibile farci un video a riguardo sì ne ho sentito parlare anch'io dello speed a minorenni più che altro da voi e vediamo cosa cosa riesco a fare e perché serve avere diciamo del materiale umano per fare la prova e ho mio figlio però sono anche un po' restio a fargli lo speed per cosa al momento non mi è ancora capitato che mio figlio debba entrare identificandosi da qualche parte ma tutto sommato se deve entrare in qualche sito dove serve un'identificazione certa eccetera vuol dire che devi fare cose importanti tra virgolette e quindi forse vorrei anche essere chiamato e quindi dire no calma facciamolo quando ci sono anch'io per cui sì ma con un attimo di cautela nel senso che vediamo un attimo che cosa serve questo speed per i minorenni e se trovo un'utilità diciamo mi fa piacere e farò un video ci sono molte persone che dicono no lo speed serve per tracciarci eccetera eccetera sono d'accordo sul fatto di fare attenzione sulla nostra reperibilità online sulla nostra privacy del mondo online ma non è il caso dello speed lo speed serve soprattutto per evitare di fare code in giro per i vari servizi e se non lo abbiamo capito ancora in questi anni negli anni recenti dove non potevi più andare negli uffici pubblici perché non si poteva e si faceva tutto online forse dobbiamo un po' rivedere i nostri canoni poi sono d'accordo attenzione quando navighiamo ai siti dove ci registriamo eccetera 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 ma inps agenzia delle entrate ufficio scuola eccetera eccetera lì abbiamo già tutta una serie di informazioni inserite che non si scappa non è che se vai nel sito dell'agenzia delle entrate con lo speed perdi della privacy c'è già tutto quando vai vedi ma anche quella roba lì sanno e quindi lo speed serve secondo me poi magari adesso cambiano qualcosa la CIE la carta di identità elettronica che ancora non ho e devo fare che ormai è la mia scada e quindi devo farla e avremo motivo e modo di lavorarci insieme perché poi la vorrò a usare in sostanza poi Rigel lo leggo sempre così sempre sbagliando Edge dice all'intelligenza artificiale integrata alla ricerca di Bing ultimamente trovo che sia meglio di Chrome che è fermo infatti di aggiornamenti da provare per credere allora abbiamo fatto un'esperienza con l'intelligenza artificiale che diciamo trovo positiva il fatto che esista un'intelligenza artificiale o che si cerchi di avere un'intelligenza artificiale devo dire che la prova che abbiamo fatto è stata disastrosa ragazzi perché ha fornito informazioni sbagliate con la credibilità di essere un'intelligenza artificiale quindi è partita male 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 per me e non ho voluto fare video successivi perché avrei potuto dire un sacco di cose in più ma va bene così abbiamo fatto una prova per me per me no ancora tornando soprattutto al discorso privacy di prima ragazzi quello sì è una cosa da fare attenzione però sarà il futuro non è ancora matura quella che abbiamo visto no è ancora proprio lontana dall'essere matura ma diciamo che è sull'albero e quindi sarà una buona cosa il fatto che Chrome non abbia aggiornamenti non è vero nel senso che tu non li vedi è una delle poche aziende che fa l'aggiornamento senza farti pasticci nel computer e tutte le volte cambiarti le cose quindi apprezzo in realtà quello poi però ci sta Bing un bel motore di ricerca e tutto quanto allora Marzia ovviamente questa è la mia opinione Marzia dice Daniele se per raggiungere i file quando leggo il nome Marzia mi viene sempre in mente che devo fare dei video sulla datilografia quindi ti ricordo Marzia ti ho ben presente mi serve proprio il momento giusto perché devo essere in una certa situazione tecnica Daniele dice se per raggiungere raggiungere i file sulla nuvola si clicca su Google Drive o foto e si può acquistare spazio da lì l'icona di Google One a cosa serve grazie niente per chiudere questa cosa un modo in più per fartelo trovare eccetera secondo me è più lo scopo commerciale c'è OneDrive che è disco 1 allora ci deve essere anche Google One che è Google 1 eccetera secondo me e poi il fatto che in qualche maniera ci inciampi sempre dentro prima o poi lo fai e lo usi non nel più tardi di secondo me questa mattina ho ricevuto i messaggi dalla team che è il mio gestore telefonico che mi diceva non hai abbastanza spazio per le tue foto ma prendi Google One ho capito ma anche la team me lo deve dire quindi è tutto un più se ne parla meglio è secondo me poi magari scopriremo usandolo che c'è anche qualcosa di comodo qui piuttosto che là però il fatto di più da più parte lo raggiungi è più facile che lo trovi e che lo usi Claudio dice stavo leggendo il proseguo di Claudio non cancellando la cronologia può rallentare l'apertura del browser non c'è un punto di domanda quindi non so se lo stai chiedendo o se lo stai dicendo tu a noi non lo so direi di no perché la cronologia diciamo non ha un peso grande però non lo so avrebbe da dire di no Angelo buonasera a tutti Milena buonasera e complimenti ciao Andrea Giuseppe dice ciao Daniele buon pomeriggio Maggiolini ciao Giuseppe Anto ha ritirato il messaggio evidentemente ho risposto ciao Anto Mauro ciao Daniele sono appena entrato nel sito per seguirti grande Mauro spero che tu sia ancora qui perché sei qui da un po' 192 mi piace grazie infiniti ragazzi abbiamo ancora tempo possiamo arrivare ai 200 secondo me Cristina in realtà a me farebbe comodo questa cronologia in ufficio ma questo succede solo con un pc come faccio a impostarla beh la cronologia dovrebbe andare su tutti Cristina però so che l'ufficio dove lavori tu ha una certa organizzazione sicuramente e potrebbe non esserci perché si è voluto che non ci sia non ti posso rispondere senza vedere la situazione di preciso perché non è un genere di ufficio che ho mai frequentato a livello tecnico e quindi non ti so dare risposta però da lì dove siamo andati a cancellarla evidentemente c'è anche qualche possibilità di impostarla fai attenzione perché se si è voluto non averla magari che tu non vada a fare dei pasticci che poi dopo magari ti sgridano ok magari chiedi eccetera tiziano ciao daniele farai altri video sulla vpn di google one si se vorrò provare ad abbonarmi per provare questa vpn molto probabilmente si perché un euro e 99 come investimento possiamo permettercelo e quindi facilmente mi vedrete abbonarmi a google one per un certo periodo di tempo e provare questa vpn quindi secondo me si è anche perché questa vpn io non l'ho mai provata e sono anche curioso di vedere com'è luca dice ciao daniele sei veramente bravissimo ti seguo ormai da tanti anni e mi hai aiutato con tantissime cose grazie mi fa molto piacere allora flora dice un esempio fantastico quello del bagno elementare da me sei unico grazie flora grazie grazie poi teodomiro dice un saluto a tutti ciao daniele ciao teodomiro domenico buonasera daniele e a tutti vorrei chiedere come mai la pagina di libero in edge si apre subito invece in chrome fa stufare di aspettare non lo so io risolvo semplicemente dicendo ok allora su libero si va con edge sicuramente c'è un qualche motivo tecnico non è detto che sia dovuto a noi perché ogni sito internet viene progettato e realizzato è un programma creato dai programmatori cercando di essere universale di andare bene per tutti quanti i browser però probabilmente casa sua è un particolare browser quindi magari libero ha deciso che a lui interessa andare bene con edge poi vabbè anche su chrome poi vabbè anche su firefox eccetera ma priorità chrome priorità priorità edge tant'è che alcune aziende tipo le bancarie almeno in passato ti dicevano nelle istruzioni per andare sull'home banking ti dicono questo sito è ottimizzato per edge per chrome per quello che è e quindi tu sai che se usi quel browser lì perfetto detto questo può darsi che il tuo chrome invece abbia dei cookie da cancellare abbia da fare un po' di pulizia abbia un qualcosa per poi tornare a funzionare come si deve però non posso dirtelo senza vedere senza provare perché semplicemente proverei a cancellare i cookie per vedere se funziona meglio poi vediamo Claudia dice buonasera ciao a te Claudia Aldo ciao Aldo vediamo un po' serata Daniele e a tutti gli amici Maggiolina felice elezione grazie Aldo mi è scappata avanti la chat chissà perché a volte parte a mille Edo ciao Edo i nostri moderatori insieme a Michela si trovano vicini grazie infinite ragazzi per la moderazione che per noi è importantissima abbiamo superato i 200 mi piace grazie Claudia grazie molto utile Luca ciao Daniele un saluto dalla Sicilia grande devo venire in Sicilia devo venire in Sicilia d'estate quando ho più tempo c'è molto caldo però insomma devo venire in Sicilia probabilmente adesso sarebbe il momento o quest'autunno l'autunno scuso c'è stato un tempo fantastico ho degli amici che sono venuti sono stati un mese fantastico vediamo chi lo sa prima o poi ce la farò Luca ciao Daniele un saluto da Sicilia giusto sempre lui Jacqueline buonasera a tutti un saluto a Daniele ciao Jacqueline Jean Paul dice buonasera a tutti oggi fatto tardi ma sei arrivato Stefano buonasera a tutti a voi un saluto poi vediamo un po' ah qui c'era il sondaggio quando ho chiuso c'era il messaggio di chiusura del sondaggio e quindi 196 voti beh bravi Rigel dice cancella cronologia firefox uguale tre pallini clicca cronologia si apre menu da tutto il tutto semplice ok grazie speriamo di aver fatto giusto Giuseppe grazie per le informazioni prima non capivo nulla di pc ora viaggio meglio grazie Daniele bella bella questa cosa ciao Marisa grazie del complimento ciao Luce grazie del complimento e quando ho detto mi piacciono i complimenti poi vi siete scatenati grazie infinite Anto che ridere quando su Telegram hai parlato del motivo per cui ti lamenti di Windows 11 ci ho fatto un video questa settimana che sarà stato lunedì è uscito ieri martedì ah no io di solito cerco di non lamentarmi mai ma insomma questa cosa qui ho dovuto dirla e l'ho detta sui vari social così perché era un video corto insomma e quindi mi fa piacere che sia stato gradito anch'io sono restia a fare lo speed a un minorenne dice Cristina eh sì anch'io nonostante promuova queste cose però non pensiate che io sia quello che ha deve mettere subito il dito a provare no assolutamente ovviamente di tante cose parlo perché ma parlo solo di quelle insomma in cui penso e spero che vada tutto bene in cui in prima persona ci metto il naso ma non sono assolutamente un pro novità pro novità nonostante il campo tecnologico Gabriele buonasera le email su Outlook occupano i 5 giga di OneDrive non lo so per certo ma secondo me sì però non lo so per certo quindi quando potrei ma io non lo uso Outlook nel senso che nel mio OneDrive non ci faccio mai caso potremmo andare a vedere dai vediamo quindi io devo andare su Edge così sono già loggato cercare OneDrive OneDrive Microsoft OneDrive vediamo se scopriamo qualcosa questa è la nuvola di Microsoft ho già OneDrive accedo ok e spazio di archiviazione qui 0,1 gigabyte ci premo sopra e vediamo se mi dici che cosa contiene allora gestisci archiviazione riepilogo di archiviazione usati ecco Outlook 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 Allegati sì quindi visto che è prevista la voce Outlook Allegati Outlook Allegati vuol dire che le email di Outlook in particolar modo gli allegati che sono le foto i documenti eccetera utilizzano i 5 giga di OneDrive e quindi adesso lo sappiamo in definitiva poi occhiali ciao Marco ciao Felicia c'è ancora tempo Todiana perché la chat è bloccata non va più indietro non lo so ma dovrebbe però non lo so probabilmente hai aggiornato la pagina e quindi non ce l'ha in memoria secondo me in questo momento buonasera a tutti dice Delta una domanda a Daniele durante la conferenza come si fa a mettersi su uno sfondo trasparente o di un colore coprendo ciò che sta dietro le spalle allora dipende dalla software di conferenza che si utilizza in Google Meet ci sarà qualche video in cui ne abbiamo parlato anche in Zoom ne abbiamo parlato vediamo se c'è Meet in Google Meet allora c'è la funzione apposita vediamo quindi non posso partelo vedere adesso perché essendo in diretta la telecamera è occupata nel senso che non mi si vedrebbe non si vedrebbe questa cosa perché la telecamera è già occupata a trasmettere l'immagine in questo momento se guardi il video 230 secondo me lo scopri se è Google Meet l'ideale è che il retro sia il più uniforme possibile però devo dire che Google Meet è veramente bravo perché mi è capitato di partecipare la settimana scorsa giovedì scorso a una videoconferenza in macchina perché ero fuori non volevo perdermela e ho potuto anche se dietro c'era la macchina ho potuto mettere uno sfondo solito e quindi non sembravo in macchina cioè si vedeva lo sfondo solito e quello è forte se usi Zoom per fare conferenze anche qui ne abbiamo parlato è un video più datato rispetto a quello di Meet e Zoom è un po' cambiato magari e ci sono vari video da guardare per capire come fare questa cosa dipende dal software che utilizzi se usi Teams di Microsoft non c'è nessun video perché non ho mai io ho avuto il piacere di usarlo quindi cerchi Asmaggiolina Zoom o Asmaggiolina Meet e vedi vedi come abbiamo fatto allora poi vedo un Massimo che manda una super sticker non so se ti ho già ringraziato Massimo ma grazie infinite ovviamente poi Carmine ciao Carmine ciao come dici tu Michele perché durante la live adesso mi è arrivato un messaggio pubblicitario sul cellulare per fortuna ti guardo la Smart TV eccetera è perché è un sostegno che abbiamo e quindi ci sono anche quelle sapete che su YouTube le pubblicità ci sono per fortuna potrei dire e quindi è così in sostanza capita in alcune circostanze non sempre e non a tutti ed è così c'è la registrazione poi ti permette di vedere magari quel pezzettino lì speriamo che non siano troppo invasive come momento Maria dice cosa succede se callo i dati perdo qualcosa di importante se cancello i dati e dipende da quello che devi cancellare se ti riferisci alla cronologia ne abbiamo parlato e lo scopo è proprio quello di farti sapere cosa perdi in teoria non si perde niente nel senso che lo scopo è quello di cancellare cose che non servono però abbiamo visto che ad esempio le password potrebbero servirti quindi dobbiamo scegliere quello che facciamo nel dubbio non si cancella perché così almeno le cose rimangono poi Andrea ciao Andrea Claudio ti aspettiamo a Palermo è un bello Palermo ci sono stato due volte ma solo di sfuggita e quindi mi mancherebbe ma vorrei rivedere tutta la Sicilia un po' tante cose Giuseppe salve a tutti un saluto da Rovigo grande Anto si Outlook da pochi giorni occupa ok avrei detto da sempre invece da pochi giorni dice Anto Giuseppe Daniele sei in gamba grazie ti seguo su ogni video grazie infinite ciao Silvana sono arrivata dice Andrea mi aiuti a fare un email sulle email dobbiamo parlare ragazzi perché ci sono email che insomma non si può rispondere perché sono fatte troppo male e quindi ci saranno probabilmente dei mini video sapete quegli short lì dove col milamento eccetera farò il diavoletto e dirò no dai non si può scrivere un email in questa maniera qua questa cosa devi fare giusta perché sennò non ti rispondono non ti rispondono perché non si può rispondere a un email di quel genere lì e quindi vedremo se riuscirò a fare questi video qua Anto dice google authenticator nel secondo dispositivo vediamo se abbiamo ancora il video authenticator perché vale lo stesso video Anto questo no dov'è chissà se non lo trovo adesso devo vedere se secondo me era un abbonato Anto devo vedere se lo trovo quel video lì secondo me è tra gli abbonati però potrei vederlo questo potrei vederlo nella playlist del nuovo smartphone perché tu puoi tenere lo puoi mettere su più su più dispositivi su più telefoni allora nuovo smartphone con la n sarà non lo vedo lm naviga google fogli qual è serie speciale short smartphone tablet 2020 smartphone nuovo cosa fare vediamo un po' giù in fondo perché è uno dei primi video perché ho dovuto farlo per me allora lo vedo lo comando pin della sim trasferiamo la sim trasferire la chat utilizziamo il problema alla banca sullo smartphone sfondo attivo post e pay speed questa autenticazione dei passaggi si è un abbonati tanto e questo vale per per tutto nel senso che puoi averlo si inquadra un codice qr e si e si vede automaticamente anche dall'altra parte vedrò se riesco a fare qualcosa magari anche di veloce per per mostrartelo allora poi marco ciao marco il green screen parlando dello sfondo dietro si se devi fare le cose super professionali dietro devi avere uno sfondo verde ma ormai nelle conferenze siccome lo sfondo verde ce l'hanno in pochi c'è un software che fa lui e anche se hai dietro uno sfondo monocolore o comunque vario riesci a fare lo sfondo trasferente lo stesso poi Gaetano dice buonasera Daniele e a tutti gli amici in ascolto la mia domanda nel pc quando stampo dei fogli esce una schermata che dice di scaricare adobe flash e non c'è la domanda mi immagino perché dice questa schermata dovrei vedere il pc per capire per capire come mai l'età la stampante eccetera non mi viene in mente nessuna motivazione valida in questo in questo momento quindi non so risponderti Gaetano Todiana ok tutto a posto benissimo Giovanni dice devo caricare lo smartphone ogni due giorni lo sto usando male beh no se si scarica di batteria io lo carico tutte le sere perché li usiamo tanto i nostri smartphone quindi ogni due giorni no è buono una giornata la deve fare poi con l'uso che se ne fa secondo me due giorni è tanto per me secondo me secondo giorno non arriverebbe nonostante il mio sia recente molto recente e ha una super batteria devo dire ah c'è un video che devo fare sullo smartphone Xiaomi questo e in generale sugli Xiaomi perché la registrazione delle telefonate è fantastica ragazzi e Xiaomi lo fa lo fa bene e nel nuovo c'è qualcosa di nuovo che devo mostrare va bene siamo arrivati in fondo alla chat quindi abbiamo risposto a tutte le domande 219 mi piace 181 persone ancora collegate grazie ragazzi è bello sapere che siete con noi che siete con me così a lungo e mi piace mi piace è sempre un privilegio sapere che ci siete quindi vi aspetto anche per il video di domani che sarà un abbonati per quello di venerdì per quello di sabato e tutti i giorni sapete che c'è da guardare qualcosa sul canale bene ragazzi ci fermiamo qua vedo che c'è un'ultima domanda dai Paolo ciao io ieri ho aggiornato il pc ma Edge è diventato strano se cerco qualcosa esce tutto in inglese e solo pagine che non c'entrano con la ricerca infine non ci sono neanche le immagini non lo so io sapete che sono sempre cauto con gli aggiornamenti ma non è che non potevi fare a meno bravo vedo i vari saluti quindi non so non so dirti speriamo che migliori ebbene siamo tutti saluti grazie 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 dei complimenti ragazzi ci vediamo sul canale mercoledì prossimo in diretta e tutti i giorni venite sul canale perché c'è qualcosa da vedere mi raccomando mettete mi piace condividete i video anche su altri social dite agli amici ma io guardo sempre il canale youtube associazione maggiorina perché ho imparato a usare il computer e adesso basta non è più ora di essere dei dinosauri digitale bisogna proprio saperlo usare questo computer e quindi facciamo pubblicità ci vediamo al prossimo video ragazzi sono pronto per salutarvi ma prima devo raggiungere la pagina col comando giusto buona serata e basta ci vediamo per il fine settimana è presto è presto dirsi buon fine settimana è solo mercoledì ciao ragazzi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti